Il lancio profondo, la sponda di Nico González per Cabral, cross per Cuamé, ha segnato la Fiorentina, che pareggia con Cuamé, bella azione, colpo di testa, 1-1. Sponda per Cabral, che non conclude, guarda in mezzo, vede arrivare Cuamé, lo serve preciso sulla testa, frustata al pallone, palo gol. Il lancio profondo è intercettato da Pasalic, Sopì allora, si muove Lukman, palla per lui in area, Lukman, una pinta, Lukman! Ancora Lukman, che continua a guardare verso l'infinito per il gol del 2-1, ma come l'ha costruito Lukman! Sbaglia il sassuolo, la taranta, ci aggiunge bellezza! Spinta straordinaria, per mandare fuori tempo Erlich a piazza all'incrocio, e 2-1! Salano Blu, alza il pallone verso Barella, lo stop in area, Barella! Niccolò Barella, eccolo, raddoppio dell'Inter, 2-0 per i nerazzurri. Gran lancio di Salano Blu, controllo perfetto di Barella, che col sinistro riesce a battere Seppe. È il gol numero 3 in campionato, al 59esimo indirizza la partita all'Inter. Salano Blu, chiude l'1-2 con Dumfries, avanza l'olandese, Varella per Lautaro, da fuori! Lautaro Martinez, 1-0 Inter! Destro potente ad ingannare il portiere della Salernitana, al primo squillo, risponde presente Lautaro Martinez, che rompe il digiuno in campionato. Erlich, frattesi per D'Andrea, arriva il cross, lo piazza, secondo palo! Che giocata del Sassuolo, con la volée di Kiriakopoulos, che butta giù la porta! Bravo frattesi a vedere D'Andrea, uno sguardo in area, valuta, mette il cross, perfetto per il sinistro. Stilisticamente bellissimo, potente, imprendibile, di Kiriakopoulos! Wow! Poisono cazolus! Wow! Wow! Wow, wow, wow! Wow, wow! Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Wow, wow! Grazie a tutti.